Il Governo nazionale ha tutta la volontà di voler realizzare la superstrada a Castelvetrano-Gela. Lo ha detto oggi ad Agrigento il sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri durante la presentazione del dibattito pubblico per la realizzazione della tangenziale di Agrigento. Ha avvisato Cancelleri che è necessario incontrarsi in quella che ha definito la forma più efficace di democrazie dirette del dibattito pubblico, voluto dalla legge, che ci permetterà di ragionare alla presenza di tutte le parti interessate su ogni possibile migliore soluzione per operare al meglio nel minor tempo possibile. Un confronto ha concluso il sottosegretario Cancelleri che permetterà a tutti i amministratori comunali, le comunità, gli imprenditori, le associazioni e tutti coloro che vogliono esprimere un'opinione di dire la propria affinché si possa snellire l'iter per poi disinnescare eventuali contenziosi. Per l'esponente pentastallato del Governo Draghi il dibattito pubblico aperto oggi è il primo passo concreto per cominciare a realizzare quest'opera, un'opera enorme, quella della Castelvetrano-Gela, 170 chilometri di superstrada per un valore economico stimato, intorno ai 6 miliardi di euro. Un'arteria inserita nel più ampio itinerario, Gela-Agrigento-Castelvetrano. Presente al dibattito iniziato oggi ad Agrigento tra gli altri Maria Rita Cocciufa, prefetto di Agrigento, Ettore Riccardo Foti, capo di gabinetto dell'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento, Raffaele Celia, responsabile ANAS e struttura territoriale Sicilia, Gildo Labarbera, coordinatore del dibattito pubblico ai vertici ANAS. Partiremo nella realizzazione delle infrastrutture dalle due estremità laterali della strada principale, la tangenziale di Gela da un lato e la Castelvetrano-Sciacca dall'altro, per poi lavorare anche per la tangenziale di Agrigento. Su quest'ultima, aggiunto a cancelleri in sinergia con la regione, abbiamo completato il progetto di fattibilità tecnico-economico per un valore di circa 14 milioni. Il dibattito pubblico l'abbiamo fortemente voluto e ringrazio il coordinatore Labarbera e ANAS perché hanno messo in piedi una grande opera di democrazia partecipata. L'obiettivo è chiudere questo dibattito pubblico, affermare quale sia la scelta migliore e partire con la progettazione definitiva Non ci fermiamo, puntiamo a realizzare l'opera più velocemente possibile, ha concluso cancelleri. Grazie